Negli ultimi vent'anni abbiamo centuplicato l'azione sport attraverso il cavallo. Dalla fine degli anni Ottanta, soprattutto a livello sportivo, è stato sempre in crescita, però abbiamo pensato molto al discorso sportivo e poco al discorso economico, perché è inutile fare manifestazioni, raduni e via dicendo dove ci sono solo spese e non c'è mai guadagno. Bisogna organizzare un turismo di elite, cosa che qui in Sicilia è partito, perché con Franco Barbagallo la costa a costa della Sicilia già la stanno facendo e stanno portando gente dall'America, gente dai paesi europei. Perché bisogna puntare proprio sul turismo equesto. Il turismo equesto è la carta vincente dell'economia attraverso il cavallo. Noi nell'ambito della nostra attività ci siamo sempre interrogati quali potrebbero essere gli strumenti migliori per favorire dei percorsi riabilitativi anche per i nostri pazienti che assistiamo nei vari centri. Uno dei nostri progetti è stato proprio quello di portare avanti la riabilitazione equesta attraverso il cavallo. Non a caso abbiamo avuto ultimamente finanziato un progetto dal Ministero delle Politiche giovanili, il progetto Neapolis, che partirà a breve nel distretto sanitario 55, Alcamo, Calatefimi e Castellammare del Golfo, rivolto a minori. È una fascia di età che va comunque dai 14 ai 21 anni, anche per quanto attiene le fasce svantaggiate. Ci siamo resi conto che lo sport, il cavallo diventa anche uno strumento terapeutico per i nostri utenti e oggi abbiamo voluto certificare quello che ho appena detto con la nostra presenza qui alla Fiera del Mediterraneo. Oggi ci troviamo qui a Palermo, alla Fiera del Mediterraneo, nelle vesti di rappresentanti della Monta Americana, dimostrando le varie discipline, dalla gincana tecnica al barrel e al pole bending. Quindi portare avanti qui il cavallo americano, la razza americana. Non solo, noi portiamo avanti due e anche più progetti, di cui uno appunto è la Monta Americana, un altro è il settore del salto ostacoli con la collaborazione di Federica Spina, il terzo con il grande amico Francesco Ruggeri e per quanto riguarda il sociale a Castellammare, quindi la riabitazione equestre. La Sicilia si presta soprattutto per il turismo equestre. Io sono di Catania, noi già abbiamo sperimentato l'ippovia dell'Etna, cioè sarebbe a dire un anello che gira attorno all'Etna dove già da 2005 lavoriamo con i turisti. L'ENG è un valido supporto e noi, a chi si vuole avvicinare al mondo dell'equitazione, apriamo le porte.